ha chiesto troppo al suo compagno Basovan e infatti arriva la palla persa, Mignon invece chiede tutto a Baco Belinelli cerca il passaggio per Mignon, è deviato, la palla arriva comunque al numero uno Virtustino che poi si prende il tiro da tre e lo mette a segno, cerca Caudì, Cordinier recupera, azione di Dai e Vai da allenamento per la Virtus in tre contro uno, Wims sbaglia ma c'è Scenghelia, Mignon si butta dentro fino in fondo, alza la parabola, sbaglia Gran, ribalzi l'attacco di Baco, fuori per Belinelli, piedi per terra, tripla di Marco Belinelli finisce così, finisce con la Virtus che vince all'Astrobal, una partita di enorme importanza la vince con grande carattere, con grande qualità, 77 a 64 il finale